Abbiamo assaggiato un nuovo prodotto che presentano quest'anno proprio qui al Vinitaly che è un dosaggio zero, in realtà una cosa anomala nel prosecco ma completamente in linea con la tendenza di mercato. Dosaggio zero, quindi zero zuccheri, quindi un prodotto molto asciutto. Rispecchia comunque le caratteristiche dell'azienda Lebertole e cioè bollicine fine e ottimissimo rapporto qualità prezzo, profumi, acidità, sapidità, ottimo abbinamento con piatti a base di pesce. Lebertole è un'azienda di Vado Biadene, Vado Biadene territorio storico del prosecco di OCC. Lebertole è un'azienda a livello familiare o poco più, una decina di dipendenti dove la nostra fortuna che possiamo avere è quella di poter gestire dal vigneto fino alla bottiglia finita. Tutta una filiera completa di lavorazioni, produzione dell'uva, vinificazione e imbottigliamento tutto da noi controllato. Al Vin Italy abbiamo presentato tutti i nostri prodotti dal primo all'ultimo, gamma spumanti, brut, extra dry, dry. Abbiamo aggiunto quest'anno una new entry, un brut dosaggio zero che è questa bottiglia che tengo qui adesso tra le mie mani. L'abbiamo presentata e ha avuto un ottimo successo appunto per una novità, un prodotto a residuo zero, assente completamente di zuccheri residui. Un prodotto che si abbina nelle tavole, un po' per tutti i palati, specialmente quelli importanti, con piatti importanti. Carni, dalla prima all'ultima, pesce, sempre che sia un bel pesce grasso, non troppo elegante, perché con un pesce troppo elegante ci vuole anche un vino elegante. Questo è un vino strutturato, un vino che pulisce molto molto bene la bocca.